Andre, partia difficilissima, combattutissima contro un avversario che, a mio avviso, ha giocato davvero bene in fase break. Abbiamo spuntato da noi tre punti di platino per la nostra corsa in classifica. Sì, sì, anche d'oro, perché vincere qua non è semplice. Loro giocano bene in casa, hanno dimostrato di dar fastidio a tante big. E quindi... Cioè, potrà sceninare che fa... Fa l'imitazione del mio dialetto a casa. No, dai. Era molto importante vincere questa gara, perché, in vista della classifica, in più veniamo da una trasferta lunga a Lisbona, dove siamo tornati soltanto l'altro giorno, e c'era poco allenamento. Nonostante un gioco, insomma, non bellissimo a tratti, ma è anche vero che in questo momento ottenere il risultato è più importante del gioco. Senti, due cose per chiudere. La prima, lo dicevamo in cronaca, avendo portato a casa la partita, lo possiamo dire, non c'è forse modo migliore per prepararsi alla Final Four di Coppa Italia, di una partita così dura, combattuta, punto a punto, anche per riprendere proprio il ritmo nei momenti anche di difficoltà. Sì, c'è questo, e c'è sicuramente davanti a noi una settimana dove possiamo caricare un po' con i pesi. Forse probabilmente fisicamente abbiamo patito questa lunga settimana senza toccare anche la parte fisica e facendo soltanto viaggi. soffrire fa parte di quello che ci spetterà sabato e domenica, sabato intanto, sicuramente con una squadra diversa che non mollerà niente e che preparerà in questa settimana la gara al meglio come faremo noi. Grazie.